Buonasera a tutti, questo sarà un intervento molto breve, mi è stato raccontato altri due interventi dopo di me e poi chiude, ma è pego atto. Questa è una sorpresa, la tiriamo fuori quando sto un po' per terminare l'incontro. Io sono Gennaro Ferrillo, sono un animatore della rete di economia solidale e cortocircuito Flegreo e sono anche un attivista nella campagna per l'agricoltura contadina. La nostra rete è una rete fatta da una quarantina di piccoli produttori della campagna, di tutta la campagna e circa anche 200-300 soci consumatori, come li stiamo chiamando, coproduttori insieme a noi. Abbiamo un piccolo mercato contadino nell'area Flegrea di Napoli. Niente, facciamo parole chiare, diciamo subito alcune cose per dirvi poi dell'agricoltura contadina. Il cibo non è una merce e non può essere una merce. Il diritto alla vita è indiscutibile, come sono indiscutibili anche il diritto all'accesso alle risorse naturali, l'acqua, la terra, l'aria, le piante, gli ecosistemi. Spero che non vogliate discutere questo diritto all'esistenza umano che esiste in natura. Eppure si parla di carenze, di scarsità. Credo la questione non è una questione di carenza di cibo, è una questione di accesso alle risorse, lo abbiamo anche detto prima. Ci sono delle tesi, si dice che c'è un problema di scarsità di cibo, io credo che sia una menzogna e che invece studi attendibili, scientifici, dimostrino che c'è cibo sufficiente, c'è cibo per 10 miliardi di persone nella produzione alimentare del mondo. Noi ne siamo sei, quindi avanza pure, insomma, sostanzialmente. Ci sono problematiche in qualche area del mondo? Probabilmente sì, qualche area ha qualche difficoltà, ma sono difficoltà anche superabili. Pensate, ho visto un film una volta che racconta una storia vera nel superamento di queste problematiche. Il film si chiama The Man Who Stopped Desert, un solo uomo, è storia vera, insomma, ferma il deserto. Quindi sono superabili anche alcune problematiche di questo tipo, insomma. Niente, quindi insomma abbiamo sentito anche prima da altri interventi nelle questioni di sostenibilità di questo modello economico. Ci sono le questioni dei cambiamenti climatici di cui avete parlato, ma sono proprio le collegate all'insostenibilità di questo sistema che dovrebbe essere invertito. Rispetto a questo modello economico, produttivo, insostenibile, diciamo due cose chiare proprio sull'agricoltura e il cibo. Il modello agroindustriale è un modello inefficiente, è un modello inefficiente perché è causa di sprechi, è un modello che distrugge la biodiversità con le monoculture, è un modello che va dalla perdita di biodiversità alla distruzione, alla desertificazione, all'emissione dei gas serra, insomma è un modello che tende alla distruzione. Possiamo dire che c'è quasi una sorta di guerra, di guerra alla terra e all'umanità, è una guerra che viene condotta dai padroni del mondo e dalle multinazionali. Questo modello impedisce la riproduzione della vita e quindi produce la sterilità, produce la desertificazione delle sementi, dei semi, della terra, quindi è anche una guerra stumida come tutte le altre guerre. A questo tipo di modello agroindustriale si contrappone un altro modello, il modello dell'agricoltura contadina. I piccoli produttori del mondo, i piccoli contadini possono essere una risorsa in grado di salvare il futuro. Intanto si dice, la si tiene in scarsa considerazione questo modello, questo mondo, ma intanto bisogna dire anche chiaramente che questo modello, l'agricoltura contadina, è quello che sfama il 70-80% dell'umanità sostanzialmente, un modello che mantiene gli ecosistemi, la biodiversità, la fertilità della terra. È un modello che ha bassi input chimici, meccanici, è un modello che ha ad alta intensità di manodopera, di saperi, di conoscenze locali. Quindi è una risorsa preziosa per questa idea di superare l'insostenibilità e salvare il futuro. E su questo dobbiamo agire noi. È a questo punto che entriamo in gioco noi. Entriamo in gioco noi, noi che siamo qua, non noi altri, noi astratti. Noi qui che dobbiamo compiere una serie di azioni e dobbiamo farlo in maniera fortemente responsabile. Il 19 agosto 2014, l'Herts Overshooting Day, il giorno in cui il fabbisogno mondiale delle risorse cede la capacità rigenerativa. Questo giorno indietreggia ogni anno meno, ogni anno un giorno, non un paio di giorni meno, significa che ci sono sempre meno riserve per la riproduzione della vita. Quindi l'esigenza di agire adesso, di agire, è forte. E che cosa dobbiamo fare noi? Che cosa possiamo fare noi? Ho pensato due cose in modo fondamentale che possiamo fare noi. Intanto dobbiamo chiederci alcune cose e agire in un certo modo. Intanto dobbiamo chiederci cosa c'è nel nostro piatto. Qual è il cibo che è nel nostro piatto? Dobbiamo chiederci il processo produttivo che ha determinato quel cibo. nel senso di chiederci quali materie prime, il produttivo inteso in tutti i suoi passaggi, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione. Dobbiamo chiederci che impatti ecologici dietro quel cibo ci sono stati, in termini di fertilità del suolo, conservazione delle varietà. Dobbiamo chiederci che impatti sociali, che impatti sui diritti, sui salari dei lavoratori che hanno lavorato dietro questo cibo prodotto che sta nel nostro piatto. Farci delle domande, interrogarci, andare a fondo sulla conoscenza. E questa è una delle azioni che facciamo con il consumo critico, con il quotidiano responsabile, con la costruzione di cooperazioni tra produttori e consumatori, con le filiere agroalimentari sostenibili, di cui noi siamo anche nelle nostre reti portatori, promotori di questi progetti. Costruire fortemente un'alleanza tra città e campagne. E questo lo dobbiamo fare con dei progetti, con delle idee, con la capacità di tradizione di questi mondi. Altre cose che dobbiamo chiederci, dobbiamo chiederci le differenze, interrogarci sulle diversità, differenze che ci sono tra i cibi e i prodotti che ci vengono proposti. Ad esempio, tra due arance, che differenza c'è? Quanto va nella costruzione della filiera del valore che produce queste arance? Quanto va al produttore? Quanto va ai vari intermediari, intesi come produzione, distribuzione, commercializzazione? Chiediamoci queste cose, magari verrà fuori che ci sono delle differenze tra queste due arance, magari un'arancia della grande distribuzione organizzata e un'arancia che viene dalla vendita diretta, dai mercati contadini, dai gruppi di acquisto solidale, da quei progetti di filiera agroalimentare sostenibile di cui vi dicevo prima, sostanzialmente. E capiremo anche lì alcune cose e saremo in grado poi di agire. Altre cose che dobbiamo fare, che possiamo fare, che dovete fare, che noi facciamo, anche voi, insomma, eccetera, e dobbiamo fare una sorta di pressione forte, una pressione politica verso un'azione di lobbying verso le istituzioni, azione di lobbying culturale, istituzionale, politica, per fare in modo che le politiche, le governance in mano ai padroni, in mano alle multinazionali, cambino sostanzialmente, si riesca a modificare in senso attivo la politica agricola comunitaria in termini europei, i piani di sviluppo rurale, come si è detto prima, a livello regionale e nazionale, insomma essere in grado di modificare le norme nazionali, regionali e locali che riguardano l'agricoltura e l'agroalimentare. L'importante che dovevo dirvi, assolutamente, sono stato chiamato per questo, quindi non posso tagliare questa parte qua, è che da alcuni anni a questa parte, 4-5 anni, è nata una campagna in Italia, che si chiama la Campagna per l'agricoltura contadina, che unisce varie reti di contadini, di cittadini, di organizzazioni, di volontari, che stanno premendo perché si porti avanti, innanzitutto si faccia riconoscere giuridicamente e culturalmente la figura del contadino, e poi si porti avanti, stiamo proponendo una proposta di legge che intervenendo prima sulla definizione giuridica di questa figura, di questo soggetto sociale, e quindi riconoscendone aspetti fondamentali come la dimensione, le caratteristiche, nuovi modelli di certificazione con cui possiamo riconoscere questa figura, questa proposta è stata anche da poco tempo presentata in Parlamento, consegnandola ad alcuni parlamentari, con questa legge appunto di dare questo giusto riconoscimento a queste figure che a mio modesto avviso, come vi dicevo anche prima, rispetto alla contrapposizione tra modelli insostenibili o meno, sono quei soggetti che possono darci una speranza per il futuro possibile. Ho tagliato quanto più potevo e vi ringrazio.